Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi giro il video delle letture del mese di maggio, il mese che si è appena concluso. In realtà purtroppo durante lo scorso mese ho letto veramente poco. O meglio, sono riuscita a mantenere il mio buon proposito di leggere un certo numero di libri ma in realtà erano tutti molto brevi, quindi alla fine il numero delle pagine non è stato così tanto. Come lo scorso mese ho letto tre libri e un po'. Nel senso che ho letto tre libri che adesso vi farò vedere e poi ho letto la seconda parte del libro Via col vento per il GDL. Come ripeto adesso in ogni video in cui nomino Via col vento ovviamente vi lascio sotto tutti i video degli episodi precedenti quindi se comunque avete voglia di vedere che cosa ne penso della seconda parte del secondo mese di questo GDL, avendo dedicato un video apposito a questo vi lascio direttamente quel link lì in modo che possiate andare a vederlo. Come ho detto l'altra volta, Via col vento anche in questa seconda parte contava più di 300 pagine, quindi comunque potrebbe sostituire un libro a sé. Quindi anche se non ho letto effettivamente quattro libri come mi era proposta di fare all'inizio dell'anno in ogni caso mi accontento perché il GDL di Via col vento mi porta via un po' di tempo anche se è tempo ben speso. Ma adesso direi di andare avanti e vi faccio vedere le piccole letture che ho fatto questo mese che come ho detto non sono dei gran libroni, però non so come. Ho avuto forse un po' meno tempo e poi in generale ho letto poco, nel senso che ho letto tutti i giorni ma poche pagine, quindi questo è il risultato. Comunque sono tre libri dei quali ho piacere di parlarvi e che magari vi possono dare lo spunto per una nuova lettura. Cominciamo! Il primo libro di cui vi parlo è Impara a essere felice di Paolo Crepé. Allora questo libro l'abbiamo letto per il club del libro perché il tema dello scorso mese se vi ricordate insomma era appunto di psicologi, quindi autori che avessero scritto dei libri che parlassero in qualche modo di psicologia o che comunque analizzassero in maniera dal punto di vista psicologico alcuni aspetti della vita. E io ho scelto di leggere Impara a essere felice. Paolo Crepé è uno psichiatra che la mia mamma adora, nel senso che ha letto altri suoi libri, lui ha dedicato molti libri all'educazione dei bambini e degli adulti, alla famiglia, ai rapporti che ci sono all'interno della famiglia, insomma è un uomo che ha scritto tanto su questi argomenti. La mia mamma è interessata, quindi li ha letti, dato che ha trovato interessanti le sue opinioni, i suoi suggerimenti e soprattutto si è rivista in una linea educativa che anche lei appoggia, mi ha sempre consigliato di leggere questo autore e quindi finalmente è arrivato il suo momento. In realtà l'ho anche visto dal vivo al salone del libro di Sorino qualche anno fa e anche lì insomma il suo carisma e la sua passione per il lavoro, per il lavoro che svolge, erano emerse in tutta la loro chiarezza. In questo libro Paolo Crepé affronta il tema della felicità sotto tanti punti di vista attraverso dei brevi capitoli. Per farvi un esempio vi leggo alcuni titoli. La felicità regalata, felicità e sporcarsi, la felicità dell'outsider, felicità e autostima, felicità e desiderio, felicità e onnipotenza, la felicità delle donne, felicità e destro e così via. Quindi analizza vari aspetti della nostra vita e come sfruttarli in modo da essere felici. Quindi come ho detto i temi affrontati sono tantissimi, dal come educare un bambino ad essere felice, magari proprio non dandogli quei giocattoli che sono useggetta ma facendogli imparare ad affezionarsi alle cose che riceve, a dargli un valore, a cercare di trattarle con cura fino ad arrivare al posto di lavoro, come essere felici sul posto di lavoro, non dedicare la propria vita al lavoro e basta ma capire che il lavoro ci serve soltanto in realtà per sostenere la nostra vita e le nostre passioni che devono sempre essere presenti all'interno della nostra quotidianità fino ad arrivare anche ai rapporti familiari, quindi ai rapporti tra i membri di una famiglia o al sfruttare le nostre qualità, addirittura la felicità legata al denaro e così via. Insomma analizza veramente la felicità nella scuola, tantissimi aspetti che mi sono risultati chiaramente molto interessanti. Su alcune cose magari, ecco ero già a conoscenza, per esempio ci può sembrare abbastanza scontato dire che se una persona fa un lavoro che gli piace allora è più felice, ecco questo è abbastanza scontato però in realtà ci sono degli aspetti che ha toccato che mi sono risultati nuovi e molto 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 interessanti. Devo dire che mi sono trovata in disaccordo soltanto su due punti, il primo riguarda la religione, non so come la pensi Polo Crepe rispetto alla spiritualità, comunque qui viene diciamo detto, viene un po' secondo me vista in maniera errata la confessione nel mondo cattolico, quindi come se noi ricercassimo la felicità nell'essere perdonati da un prete che ci ascolta perché tanto una volta che ci ha perdonati noi ci sentiamo meglio, ecco in realtà la confessione è una cosa un po' diversa che va un po' più in profondità e che soprattutto se uno studia che cos'è la confessione all'interno della religione cattolica capisce che non è assolutamente questo l'intento, ecco. E la seconda cosa su cui non mi sono trovata d'accordo è il fatto che delle persone ricerchino la felicità attraverso delle pratiche come può essere la meditazione, come può essere lo yoga, come può essere insomma questo genere diciamo di attività un po' alternative. Ovviamente io faccio yoga e so che questo tipo di attività mi rende più felice, ha reso la mia vita migliore, non è una cosa materiale, è una cosa che faccio, che mi tiene il corpo in allenamento, quindi non è un attaccamento a qualcosa di effimero e non ci vede niente di male se una persona attraverso questa attività si sente più felice e arricchisce la sua vita. Magari fatemi sapere voi che cosa ne pensate un po' di questo. Per il resto, come detto, il libro è interessante ed è bello insomma quando qualcuno sottolinea, anche se lo sentiamo dire spesso ma è sempre importante che la felicità non si ritrova nelle cose che compriamo ma nelle sensazioni che viviamo, nei sentimenti che proviamo, nelle relazioni umane, quindi quella felicità che è duratura, che è fatta per segnare la nostra vita sul serio. Ecco, quindi niente, su questo libro ci sarebbe da parlare tanto anche se è breve, comunque io ve lo consiglio. Rimaniamo un po' sullo stesso tema per il secondo libro che ho letto, ovvero un quaderno di esercizi per mettere in pratica la legge dell'attrazione. Allora, vi faccio vedere un po' come era organizzato, ecco, considerate che è scritto così, quindi capirete che l'ho letto veramente pochissimo tempo, cioè è scritto come se fosse un quaderno con qualcuno che ha scritto a mano, ok, delle note, ecco, e qui in fondo, ora vi faccio vedere questo perché non l'ho compilato, è un esempio di esercizi, quindi è un quaderno che spiega la legge dell'attrazione e poi propone degli esercizi che aiutino nella pratica, ecco, a mettere in atto questa legge. Io credo molto nella legge dell'attrazione che, se non la conoscete, insomma, in due parole, è semplicemente il fatto che se la nostra mente è positiva, quindi invece di pensare sempre al lato negativo, invece di pensare sempre alle conseguenze negative o di vedere il futuro sempre in maniera negativa, lo stravolge e lo vede sempre in maniera positiva, allora automaticamente l'universo fa in modo che arrivino a noi le cose che vogliamo, quindi tutto sta nel modificare il nostro modo di pensare perché è proprio dalle idee che nascono le azioni e quasi senza accorgercene nel momento in cui cominciamo a pensare positivo, ad avere una visione bella di noi nel futuro, immaginarci con ciò che in realtà desideriamo, ecco che quelle cose automaticamente verranno a noi perché le nostre azioni saranno appunto create da queste idee e quindi saranno indirizzate ad ottenere quello che vogliamo. Io ci credo perché semplicemente anche se a volte può sembrare che la vita non ci dia proprio proprio quello che abbiamo sempre desiderato, in realtà avere un pensiero del genere aiuta la nostra vita comunque, quindi la rende molto più piacevole il fatto di riuscire a pensare in maniera più positiva, riuscire a vederci noi stessi nel presente e nel futuro in maniera più positiva o riuscire per esempio a superare i lati brutti del passato vedendo quali sono stati gli insegnamenti che questi eventi ci hanno dato. Quindi insomma è per me un argomento molto interessante che può veramente dare qualcosa in più alla vita delle persone. Purtroppo questo libro per me era abbastanza scontato o meglio, dato che ho già letto su questo argomento le cose che venivano dette già le conoscevo quindi mi hanno aiutato il giusto o meglio non mi hanno dato qualcosa di nuovo. Quindi magari se siete proprio all'inizio e non avete idea di che cosa sia la legge dell'attrazione e volete informarvi, probabilmente questo è un libro adatto perché lo spiega in maniera molto semplice, molto chiara ma completa e allo stesso tempo ci sono gli esercizi che vi aiutano, un po' come il libro dell'Ikigai, non so se ve lo ricordate, ecco più o meno la struttura è la stessa anche se il libro sull'Ikigai è un po' più completo, un po' più corposo, comunque l'idea è la stessa e vi può sicuramente tornare utile. Infine l'ultimo libro letto nel mese di maggio e anche qui capirete che in realtà non l'ho letto molto perché questo era piuttosto veloce da leggere e sto parlando di Distratto come me, quindi è una raccolta di varie storie, quindi a fumetti su Pippo. Anche questo ovviamente l'ho letto in dei giorni ma mi ha fatto tantissimo piacere leggere, l'ho trovato nella libreria della mia mamma, in realtà è un regalo di una mia sorella all'altra mia sorella per un Natale, se vi ricordate aveva regalato un fumetto simile anche a me e quindi mi sono letta anche questo. Io ho riscoperto il personaggio di Pippo attraverso questo libro e sono veramente estasiata, cioè lo adoro, è sicuramente il mio personaggio preferito perché non c'è paragone con Topolino, con Mimmi eccetera che sono così ligi, così beneducati, così onorevoli, ma in realtà è veramente molto più divertente leggere le avventure di Pippo, qui ci sono non so quante storie, comunque diverse storie, c'è una parte iniziale in cui si parla un pochino di questo personaggio, però è bello vedere, rendersi conto di quanto sia strano, smemorato, ma simpatico. Un personaggio che nonostante il suo essere così impacciato riesce comunque a raggiungere sempre il suo scopo, riesce comunque a uscire vincitore da ogni situazione, che si tratti di salvare il Natale o di scoprire chi è il colpevole di un furto, lui riesce sempre a stupirci nonostante le prerogative, insomma non siano assolutamente a suo vantaggio. È un personaggio buono, è un po' ingenuo, un bambinone, ma è uno di quei personaggi che non puoi non voler bene, quindi super super approvato. Bene ragazzi, il video finisce qui, spero che vi sia piaciuto, mi spiace non aver più libri da proporvi questo mese, spero di recuperare il mese prossimo, fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri o quali sono i libri che avete letto voi durante il mese di maggio e come sempre ci vediamo presto con un altro video, ciao!